Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità di essere qui. Mi chiamo Bonomi Simone e qui appunto oggi vorrei presentare e quindi promuovere quelli che io ho chiamato legami di roccia tra la nostra provincia e la città di Milano. Riporto qui quattro foto per me emblematiche di Milano. Una è Piazza della Scala, poi l'Arco della Pace, una delle tipiche vie del centro cittadino è Piazza degli Affari. Sono appunto immagini simbolo della città che tutti noi conosciamo, probabilmente note poi anche ben oltre i confini locali. Non tutti probabilmente sanno, nemmeno noi varesini, che in ognuno di questi luoghi c'è un pezzo fisico della nostra provincia di Varese. Si tratta del Porfido Rosso di Varese, l'unica pietra ornamentale da costruzione estratta nella nostra provincia, a differenza delle altre province, ad esempio la zona di Trento, di Brescia, noi ne abbiamo solo una di pietra, che viene lavorata a Quassalmonte, nella parte nord di Varese, sulla sponda del lago di Lugano. L'iniziativa che qui vorrei appunto sostenere, che sostengo, consiste nella promozione di questo materiale, come espressione della qualità veresina in un settore specifico, quello della pietra naturale, e come espressione di quelli che appunto io ho chiamato legami di roccia fra le due province. Quindi da mantenere e da valorizzare nelle nuove opere pubbliche e nei ripristini previsti nell'ottica di Expo 2015. I pilastri su cui si potrebbero fondare questa iniziativa sono sostanzialmente quattro. Per un luogo la qualità, la nostra pietra varesina, il Porfido Rosso, è nel settore riconosciuta come una delle migliori tra le pietre estratte nell'arco alpino. E l'unicità, in quanto questa pietra è presente solo nella nostra regione, nella nostra zona, ed è unica al mondo per le sue proprietà estetiche e anche tecniche. Un altro pilastro della storia, sicuramente, è che le prime cave furono aperte a Quassalmonte, alla fine dell'Ottocento, proprio per supportare lo sviluppo urbano della città di Milano. Quindi, proprio in contemporanea, a pochi chilometri di distanza, Angelo Porretti probabilmente avviava il suo glorioso berificio. E poi, un altro pilastro è l'ambiente, in quanto l'utilizzo di questo materiale, nuove opere, sarebbe nell'ottica del concetto chilometro zero, che si sostiene ultimamente, quindi che supporta l'utilizzo di materiali locali. Il network potrebbe coinvolgere una simile iniziativa, potrebbe coinvolgere diverse interfacce, sicuramente i cavatori, che ogni giorno si impegnano a lavorare questo materiale, oppure le istituzioni, che potrebbero essere interessate a portare alla luce qualcosa di strettamente legato al territorio, oppure università, ad esempio la ditta, la cava che io qui rappresento, che è la cave di Porfido Rosso di Quassalmonte, già collabora con, ad esempio, l'Università di Milano Bicocca, per supportare ricerche in ambito mineralologico, che potrebbero essere stese ad altri settori, oppure anche enti privati, penso ad esempio a progettisti, o a imprese, che potrebbero proporre progetti con un materiale particolare, sicuramente, e locale. Qualche idea concreta per valorizzare quelli che sono i legami di roccia tra Varesi e Milano, concreta potrebbero essere semplicemente contatti con i committenti di Expo o amministratori milanesi, che sono chiamati a decidere con quale materiale realizzare le loro opere, oppure la realizzazione di ricerche storiche sull'utilizzo di questo materiale o sulla sua storia, che come molte cose storiche rischia di essere sempre accantonata, oppure eventi a tema o serate informative. Quindi, in conclusione, io promuovo questa iniziativa, in quanto potrebbe avere effetti benefici, ad esempio, sicuramente sulla cultura, perché porterebbe alla luce qualcosa di peculiare, unico del nostro territorio, potrebbe dare visibilità non solo alla Valcerese o ai comuni di Quasso al Monte, dove viene estratto questo materiale, ma l'intera provincia, e poi il lavoro indotto, sicuramente, se, qualora venissero realizzate nuove opere con questo materiale, ci sarebbe bisogno di nuova mano d'opera per produrre questi materiali, quindi portare avanti la tradizione di questa lavorazione, e poi l'ambiente, appunto, promuovendo l'utilizzo di materiale naturale e a chilometro zero.